Il mercato dell'e-commerce sta crescendo, già in Italia ci sono più di 40.000 siti che vendono online, ma per il consumatore è importante sapersi districare nell'offerta. Il consumatore deve scegliere siti sicuri e affidabili ed è per questo che Netcom ha sviluppato un Trasmark, un sigillo che analizza più di 80 parametri per verificare l'attendibilità, l'affidiabilità e soprattutto il fatto che i siti siano in regola con le leggi e le normative sia a livello italiano che d'europeo. E questo per garantire fiducia e per garantire un acquisto sicuro. Grazie a tutti.